Dalle parole del sindaco di Capaccio Pestum, Franco Alfieri, ai fatti, New Basket Agropoli Pestum è nata una nuova realtà sportiva. Lo annunciò in occasione della scorsa stagione cestistica di Serie C Gold l'ex sindaco di Agropoli, dove la New Basket Agropoli affrontava nelle Final Four caserta. In quell'occasione anche il sindaco di Agropoli, Adamo Coppola, accolse positivamente la proposta. Vogliamo superare un po' questi steccati e a volte gli steccati sportivi hanno causato anche steccati politici e quindi vogliamo abbattere prima quelli sportivi. Stiamo lavorando per un'unica squadra di basket che vedrà qui sempre i campionati maschili e i femminili a Capaccio, dove stiamo rimontando le due sfere geotetiche, quindi avremo due palazzetti anche lì per il basket e per la palla a volo, quindi ci stiamo lavorando. Abbiamo anche immaginato un luco che vede il delfino con qualche simbolo anche della città dei templi, ci stiamo lavorando e credo che quando sapete che io penso e lavoro a delle cose, poi le cose accadono. Dall'idea dunque ai fatti per rilanciare tutto il movimento cestistico in un territorio che ha un enorme patrimonio sportivo e culturale. I due enti, quello del comune di Capaccio Pestum e di Agropoli collaboreranno insieme per annullare gli steccati e rilanciare il settore cestistico, rafforzarlo, creare opportunità più concrete per il futuro di questo sport e per i tanti giovani che lo praticano, perché se si agisce in un gruppo gli obiettivi si raggiungono più facilmente. Tutti saranno coinvolti, ha dichiarato il presidente Angelo Farese, dagli atleti alle società locali e limitrofe realizzeremo un polo unico che punterà in alto e che avrà una serie di riferimenti sportivi di carattere nazionale.